Lauber, un tetto, è tutto La situazione, poi anche hanno cominciato la Germania, anche loro, a giocare molto bene Infatti è pareggiato tutti e due, hanno fatto molto bene Però adesso quindi ci sta lo 0-0? Sì, per il momento sì 8-3-0, il pronostico, c'è un leggero ritardo nella tabella di marcia E almeno che la Germania acceleri molto nel secondo tempo Nel secondo tempo, io ho visto una Germania deludente Mancava un po' di freschezza come una volta, come le altre partite